Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, aaaaaah! Ho da dirvi delle cose nel video di oggi davvero super interessanti per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Giornata importantissima anche quella di oggi perché come sapete arriveranno le sfide della settimana numero 6. Non perdete i video che ci saranno nel corso della giornata che vi spiegheranno tutte le soluzioni perché ci sono delle sfide molto curiose e molto interessanti. Ma nel video di oggi ragazzi parleremo di un hacking che è stato fatto all'account di Fortnite. Vi farò vedere delle cose che sono successe. C'è un attacco mirato proprio alla richiesta di una cosa. Ve lo farò vedere nel video. Parliamo anche ragazzi di una cosa incredibile. È stato scoperto e abbiamo anche un gameplay del nuovo sito degli scavi ragazzi. Quindi quello vicino a Loot Lake in poche parole. Vi faccio vedere che cosa c'è sotto. E poi ragazzi scoperto anche se ancora non rilasciato il nuovo torneo da mezzo milione di dollari in cash dove potremmo probabilmente partecipare tutti. Però ragazzi prima voglio ringraziarvi tutti per utilizzare il mio codice creator Xiu Derone. Grazie di cuore raga per il mega supporto al canale. Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live. Prima però ragazzi dai prima devo farvi la domandina. C'è cielo qua che ve la devo fare. Mi raccomando i vostri commenti qua sotto. Ci tengo a leggerli ragazzi. Io li leggo, ci tengo un sacco e la domandina è molto molto easy ma quanti punti hai nell'arena? Dai ditemi un po' raga ce l'avete fatta. So che molti di voi hanno raggiunto i 300 punti almeno così mi scrivete sempre durante le live di questi giorni concentrati sulla modalità arena. Io ci sono quasi raga me ne manca qualcuno ma sono quasi a 300 e spero davvero che anche molti di voi riescano a raggiungerli ma anche se non li raggiungessero vi ricordo che ci saranno tornei anche per chi è arrivato nella divisione 4, 5 e 6. Ma quindi ciancia alle bande e vando alle ciance subito subito ragazzi andiamo a parlare di una cosa velocissima sono tornati i regali. Wow! Da ieri ragazzi per un periodo super limitato di tempo sono nuovamente disponibili i regali quindi potremmo donare qualcosa ad un nostro amico. Vi ricordo che per fare un regalo ad un vostro amico dovete averlo nella vostra lista da almeno tre giorni e vi ricordo che ovviamente lui non può già ricevere un regalo se ha già un oggetto quindi mi raccomando come dice il tweet ufficiale di Fortnite sorprendi i vostri amici con un regalo mi piace tantissimo sono stracontento e colgo l'occasione per ringraziarvi per i regali che mi fate durante le live grazie di cuore ragazzi vi voglio bene sapetelo sempre ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di questo raga questo questo è assurdo questo ragazzi è un tweet ufficiale di Epic Games che cavolo vi sto facendo vedere dove siamo arrivati questo non è questo che voglio farvi vedere questo voglio farvi vedere ragazzi i tweet ufficiali che sono stati pubblicati su Epic Games sulla loro pagina di Twitter in realtà ragazzi era tutto frutto di un attacco hacker assurdo ragazzi assurdo in pochi minuti hanno forzato il loro account personale ed hanno pubblicato messaggi inerenti al revert del nostro gameplay che cosa vuol dire vuol dire che la community rivuole i 500 di maz limite per le partite nel battle royale e rivuogliamo la salute e lo shield ad ogni kill non capisco perché si ostinino nonostante anche i più grandi streamer abbiano deciso di coalizzarsi a parte TV che deve sempre fare quello che non vuole stare con la massa e quindi dice che gli piace così tutto il resto del mondo ragazzi è contro il ritorno del mazza 999 perché ha veramente un po' ammazzato il gameplay sinceramente troppi build troppa roba da fare era molto più figo e snello prima staremo a vedere questi ragazzi sono i tweet che sono apparsi nella loro pagina ufficiale che hanno un po' sconvolto la community ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi eccolo qua il nuovo sito di scavi ragazzi sapete che vi ho fatto vedere due o tre giorni fa in un video che c'è già una piccola sagoma rettangolare vicino al sprofondo stantio all'ex loot lake ecco ragazzi questo è quello che troveremo sotto quella piccola squadratura e voglio farvi vedere di più guardate ragazzi abbiamo addirittura un gameplay ecco qua quello che è stato visto da qualcuno ragazzi sotto c'è una placca gigante di metallo che cavolo è quella placca gigante di metallo non riesco a capire ragazzi volete la mia secondo me c'entra ancora con il bunker non so perché ragazzi ma potrebbe essere ad esempio un possibile tunnel io sono convinto che questi bunker prima o poi qualcosa faranno si parlava già ai tempi di cunicoli sotterranei che collegano punti diversi delle varie city secondo me non chiedetemi perché molto lentamente ce li stanno facendo vedere ma potrebbe centrare e se per caso non centrasse ditemi secondo voi che diamine è quella placca gigante di metallo perché io non lo riesco davvero a capire tra pochi giorni sarà disponibile ovviamente questo sito che vi ho fatto vedere in anteprima ma parliamo di un'altra cosa super interessante per quello che riguarda i tornei ovviamente tutti oramai abbiamo imparato e abbiamo visto da più o meno streamer o provata noi stessi la risoluzione strecciata beh ragazzi da poche ore è stato ufficialmente detto che nei tornei il massimo che sarà plausibile utilizzare è una risoluzione a 16 noni quindi non si potrà più vedere le robe quelle piccolissime che con pochissimi click del mouse ti permettono di modificare velocemente o comunque vedere i personaggi i nemici un po' più larghi e quindi killarli più velocemente la strecciata esisterà sempre per le vostre partite normali ma non nelle competizioni ufficiali dove verrà appunto blindato il 16 noni approvo tantissimo questa cosa ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi questo ancora non è stato presentato ufficialmente da fortnite arriverà tra pochissimo è lo sfondo relativo al nuovo evento da mezzo milione di dollari si chiama fortnite world cup warm up praticamente delle prove ufficiali per tutta la community di fortnite in vista dei campionati mondiali delle world cup quelle in poche parole che stiamo affrontando nell'arena per qualificarci cosa ovviamente impossibile per me ma comunque molto piacevole da fare mezzo milione in premi che daranno proprio fisicamente a chi si qualificherà non sappiamo ancora quando sarà come sarà se possiamo fare come possiamo fare ovviamente appena sapremo qualcosa anche voi sarete i primi a saperlo e chiudiamo ragazzi con le elinews ragazzi lo abbiamo visto tutti dodicesima posizione dell'elicottero ragazzi è arrivato là in alto dove è la montagna che dà un pochettino su sponde del saccheggio quindi dove c'era sempre l'ex loot lake come è stato fatto notare da alcune persone in tutto il percorso dell'elicottero c'è sempre stato questo telescopio montato al centro e porca gnoffa ogni volta ogni volta che si guardava dal telescopio ovviamente nella modalità replay il nostro le nostre sponde del saccheggio erano sempre al centro della sua lente quindi ragazzi che cosa vuol dire questo che per caso epic games ci sta mandando un messaggio e ci sarà un altro evento a sponde del saccheggio io sono ancora convinto che possano essere riempite di lava non chiedetemi perché è una mia idea ovviamente se succederà qualcosa ve lo dirò al cento per cento per oggi ragazzi tutte le news sono state dette io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando codice creator xuderone non perdete le live che stiamo per arrivare a 300 punti noi ci vediamo alle 13 ciao 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 ciao